Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo una maglia che avevamo già visto in versione fan, trovate qui in altro la recensione, la seconda maglia della Juventus per la stagione 22-23, questa volta in versione player. La maglia da trasferta adidas Juventus 2022-23 introduce una combinazione di colori che si adatta perfettamente al club. Ufficialmente i colori della maglia sono black, white, carbon. La base scura è abbinata al bianco utilizzato per i loghi e le tre classiche strisce adidas sulle spalle. Sottili strisce verticali sono create sul davanti su un aspetto appuntito in antracite nero. Come la prima maglia 2022-23, la maglia da trasferta presenta il logo Jeep con il fulmine all'interno dei contorni. Catturare la magia delle partite notturne è questo l'obiettivo dell'elegante divisa nera, con sottili spunti design che fanno riferimento al DNA del club. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La maglia secondo me è molto bella. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Bello il contrasto bianco e nero, bello questo motivo, fatta veramente molto bene, molto confortevole. Il costo lo vedete qui sopra, che vi ricordo include anche le spese di spedizione, la maglia di un ottimo materiale. Devo dire la verità però che il tessuto mi ricorda tantissimo, se non addirittura identico, a quello della versione fan. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere sul sito quale altre bellissime maglie vi attendono. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo io spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.